...dall'olio con il destro, la parata di Frattali, grande Frattali, grande Frattali, bravo Gigi, bravo Gigi, bravo Gigi, si è disteso sulla sua destra, neutralizzato il rigore, Gigi Frattali, restiamo in parità, bravo Frattali, bravo Frattali, calcio l'angolo per il Catania, ma Frattali ha neutralizzato il rigore, grandissimo Frattali, siamo ancora in parità. Intanto cartellino giallo, doppio cartellino giallo per Bianco, Vali che deve chiudere in 10, questa partita è spulso Raffaele Bianco, Baccani di tutto, ci sarà ancora da soffrire, però che parata quella di Gigi Frattali, restiamo in cronaca diretta perché c'è un calcio d'angolo per il Catania, con il Vali che sarà costretto a giocare in 10 uomini questi ultimi 3 minuti. Cristian, Cristian, hai visto che è andato poi a prendere il pallone, Ciofani, finalmente è andato a proteggere il portiere, ricordiamoci Teramo, guarda. Sì, vero, 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 è andato a chiudere poi sulla ribattuta di Gigi Frattali.